Caro Vincenzo, caro Presidente, cari delegati della WISP nazionale di tutti i territori, mi dispiace non essere con voi, ma impegni istituzionali mi trattengono nella mia regione, ma ci tenevo anche per l'amicizia e il rapporto di collaborazione che abbiamo avuto col vostro Presidente sia prima in Emilia Romagna, poi a livello nazionale, anche in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni Italiane in questi ultimi tre anni e mezzo, ci tenevo a mandarvi un saluto e qualche riflessione, a partire dal fatto che il terzo settore per noi è qualcosa di rilevante e importante, quando dico per noi ovviamente mi riferisco alle regioni, più in particolare alla Regione Emilia Romagna, peraltro da subito, da quattro anni fa quando fui eletto Presidente dell'Emilia Romagna, io tenni sorprendendo tanti la delega allo sport, il motivo è molto semplice perché lo sport per le regioni è sempre stata una delega, stiamo in ambito sportivo, di serie B o addirittura di serie C, mentre invece ha un valore a mio parere irrinunciabile, lo ha perché lo sport ha a che fare non solo con un aspetto agonistico per quanto importante, ognuno di noi che abbia fatto sport quando scendeva in campo o scende in campo lo fa per vincere ovviamente, non per perdere, ma certamente lo sport deve avere un valore che ha a che fare ad esempio con la sanità pubblica o comunque con il tema della salute, corretti e sani stili di vita, facessimo vedere la curva di spesa dei paesi dove c'è un benessere diffuso rispetto ad esempio a come contrastare, non so, per dire l'obesità nella popolazione magari persino più giovane, rispetto a quanto invece si risparmierebbe di soldi pubblici, di spesa pubblica, magari impiegandola in cose più utili e più virtuose se ad esempio aumentasse il numero di coloro dai bambini, ma fino all'età diciamola così diversamente giovane in cui si facesse attività motoria, attività sportiva. C'è un tema che ha a che fare con la qualità della vita delle persone, dalle nostre parti la qualità della vita ha sempre avuto a che fare in primo luogo certo con il lavoro che è il primo vero elemento di dignità per le persone, per sé, per le proprie famiglie, poi ha avuto a che fare con la qualità dei servizi, quelli sanitari, quelli educativi penso agli asili nido, alle scuole materne, quelli per la disabilità e per gli anziani, ma poi c'è un terzo aspetto, per noi qualità della vita è anche qualità del tempo libero che spendi e la cultura da un lato e lo sport dall'altro possono davvero dare opportunità alle persone per vivere meglio le loro inclinazioni, ciò che come dire anche nel tempo libero possono praticare o di cui possono fruire. E d'altra parte, guardate, se l'Emilia-Romagna, in questo la WISP ha storicamente le prime due associazioni per numero di iscritti che ci sono in Emilia-Romagna nell'ambito dell'associazionismo, sono due associazioni sportive, tra tutte voi siete la prima in assoluto. Il valore che la WISP ha avuto per la diffusione dello sport, come si definisce, si definiva per tutti appunto, sia per coloro che ne possono fare addirittura una ragione di vita o di professionismo, ma anche per tanti, la moltitudine, la stragrande maggioranza, che anche solo per divertimento, per poter stare insieme ad altri, abbiano voglia di praticare una qualsiasi disciplina sportiva. Ecco, ebbene, dicevo, se l'Emilia-Romagna ha una media nazionale di praticanti dello sport più alta della media nazionale è dovuto a due fattori. Il primo, una diffusione di impianti sportivi straordinaria e credo che abbiamo condiviso un fatto anche di novità per l'Emilia-Romagna. Mai era successo che, come è accaduto lo scorso anno, l'Emilia-Romagna attraverso addirittura fondi di sviluppo e coesione, fondi europei, mettesse ben 40 milioni di euro per realizzare, con il cofinanziamento dei comuni arriviamo a 100 milioni di euro, ben 140 impianti sportivi in altrettanti comuni. Perché? Perché abbiamo detto, ogni comune può presentare una sola proposta, un solo progetto. Certo, questo penalizza le grandi città, ma pensate che opportunità per i piccolissimi e piccoli e medi comuni, dove l'impianto sportivo spesso vale la chiesa o il municipio in termini di coesione sociale. Ecco, impiantistica sportiva diffusa, necessaria, che abbatte ad esempio anche tutte le barriere architettoniche, permette a chiunque di potervi accedere senza problemi e senza limiti, ma dall'altra il secondo elemento, in questo voi ne siete stati, andatene orgogliosi, andatene orgogliosi perché ne siete protagonisti, l'enorme diffusione di società sportive o di gestione di impianti dovute all'associazionismo, per il 99,9% dovuto a migliaia di volontari, donne e uomini, ragazze e ragazzi, che permettono a tanti di noi di poter fare pratica sportiva durante il giorno o durante la settimana. Ecco, io penso che abbia un grande valore se la coprogettazione, persino delle politiche pubbliche, possa avvenire attraverso il terzo settore. Da questo punto di vista abbiamo le carte in regola. Credo che inedito tra le regioni italiane, quattro anni e mezzo fa, sei mesi dopo il mio insediamento, noi facemmo, stipulammo un patto per il lavoro che ha deciso dove collocare ad esempio in questi anni 20 miliardi di euro di investimenti, tra fondi europei, fondi nazionali, regionali e privati, ad esempio per le infrastrutture, riguardo all'Emilia Romagna e dentro a quella firma abbiamo voluto non come solitamente si fa solo i sindacati in rappresentanza del mondo del lavoro o tutte le associazioni economiche in rappresentanza di tutte le imprese, dal commercio fino alla grande industria o gli enti locali ovviamente, le province, i comuni. Abbiamo voluto anche per la prima volta il forum del terzo settore perché crediamo che dobbiate avere un ruolo sempre più propositivo e sempre più importante dal punto di vista della condivisione delle politiche, ognuno peraltro nella propria reciproca autonomia, che si fanno nei territori. Il secondo aspetto, io penso che sia meritorio la battaglia che state provando a condurre anche insieme ad altri enti di promozione sportiva per andare a verificare quali sono le tessere tra virgolette vere, che hanno una credibilità piuttosto che un mercificio che non fa bene a nessuno. Io penso che prima o poi bisognerà davvero arrivare a una sorta di bollino di qualità per coloro che fanno davvero associazionismo nella forma e nella maniera più corretta e coloro che invece lo fanno più per lucrare qualche euro piuttosto che avere tra i propri valori quello della diffusione della pratica sportiva attraverso l'associazionismo e il volontariato. Il terzo è arrivare a una politica diffusa, diciamo così, di attinenza delle politiche regionali nell'ambito del registro unico del terzo settore a livello nazionale. Ho avuto l'incontro con la vostra Presidente nazionale, parlo vostra non tanto come UIS ma come forum del terzo settore nazionale proprio la scorsa settimana. Cercheremo di mettere in campo una definizione, un allineamento delle politiche tra forum del terzo settore e le vostre aspettative. Il governo nazionale voglio essere molto preciso su questo. Tutti sanno e sapete la mia appartenenza politica, non solo non la nascondo ma ne vado fiero e orgoglioso, ma è evidente che quando parliamo del governo del Paese questo è anche il mio governo, perché quando guidi un'istituzione, lo ricordo sempre a me stesso ogni mattina mentre vado a lavorare, la prima cosa che devi ricordarti è che l'istituzione più importante di te e del tuo destino, perché l'istituzione resta e noi rimaniamo qualche anno e poi passiamo. E soprattutto, secondo aspetto, ricordo sempre a me stesso che quando guidi un'istituzione negli anni in cui la sei la guida, tu devi rappresentare la tua comunità anche coloro non solo che non ti hanno votato, ma anche che sai già non ti voteranno mai. Così dovrebbe essere il rapporto tra istituzioni e dunque tra governo centrale, conferenza delle regioni, forum terzo settore. Io mi auguro che nelle prossime settimane sapremo fare qualche decisivo passi in avanti anche in relazione alle questioni che avete posto. Grazie Vincenzo, grazie a tutti i delegati, il mio più grande in bocca al lupo, ma non ho dubbi che sarà così per due giornate che state svolgendo molto belle, proficue e anche utili per lo sport di base e l'associazionismo sportivo nel nostro Paese. Buon lavoro a tutti!